Un abbraccio virtuale arriva anche dai bitontini che sono all'estero e sono lontani dalla loro città ma soprattutto dalla loro famiglia. Pertanto dar loro voce è un modo per accorciare le distanze, trasmettere un messaggio di speranza e di affetto in un momento storico delicato come questo per la pandemia del coronavirus. Radio W0 continua il suo percorso in giro per l'Europa con Michelangelo Lamura che vive in Olanda. Ciao mi chiamo Michelangelo e vivo a Rotterdam da circa tre mesi. Per quanto io possa informarmi o tenermi informato tramite i miei familiari o i miei amici sulla situazione in Italia non vivendola in prima persona non riesco a mettermi nei loro panni. Questo perché nei Paesi Bassi la situazione è diversa. Il primo ministro è rimasto l'unico sostenitore dell'indenità di Greggio. Quindi sì, scuole, ristoranti, pub, palestri chiuse ma non è stata adottata nessun tipo di misura di quarantena. Negli ultimi giorni tuttavia parecchi olandesi si sono barricati in casa. Per quello che vedo la stanno vivendo molto serenamente. E mentre in Olanda le misure non sono così restrittive, diversa la situazione che stanno vivendo gli spagnoli e il nostro amico Luca Lavacca in Erasmus a Valencia. Ci ha raccontato di quanto, a differenza anche dell'Italia, i limiti sono maggiori perché ad esempio agli amanti dello sport è stato proibito di continuare a coltivare la loro passione all'aperto. Non mancano le difficoltà per gli studenti Erasmus in Spagna. La farnesina ha fatto pressione all'Italia affinché ci fossero dei voli per far ritorno dall'estero. Tre le possibilità. Un traghetto della Grimaldi da Barcellona a Civitavecchia, due voli all'Italia per Roma-Ciampino da Madrid o Malaga. Ma Luca ha deciso di rimandare il suo ritorno a Bitonto. Ciao, sono Luca e vivo a Valencia da un mese e mezzo. Sono un studente Erasmus. La cosa brutta fondamentalmente che mi è capitata è che è giusto condividere. Praticamente ho ricevuto una mail da quello che sembrava essere il mio ufficio Erasmus ufficiale. Io studio a Roma, la Sapienza. In questa mail questo ente ufficiale mi consigliava di tornare in Italia ma è una mail che è stata ricevuta da tutti gli Erasmus italiani a Valencia ma soprattutto in Spagna. Fondamentalmente bisogna stare attenti anche in questi casi. Spero di tornare presto, spero di abbracciare presto la mia Bitonto e spero di abbracciare presto la mia famiglia e i miei affetti. Un bacio dalla Spagna.